Due file distinte per sottoporsi alla vaccinazione anti-covid nel centro di via Valle Anzuca, Francavilla al Mare, all'interno della struttura, quella dei prenotati, e all'esterno quella di chi non ha effettuato alcuna prenotazione. Questa mattina è tornata alla normalità la situazione dopo le proteste di ieri, 29 dicembre, per le quali è stato necessario l'intervento della Polizia Municipale. A creare dei servizi sono state persone non prenotate che pretendevano di far ugualmente il vaccino e persino di passare avanti a chi all'appuntamento lo aveva già fissato da diversi giorni. A verificare la situazione è arrivata il sindaco Luisa Russo, accompagnata dal vice sindaco Williams Marinelli. Invito tutti a prenotarsi perché già oggi sulla piattaforma ci sono parecchie date disponibili per Francavilla, quindi invito tutti a verificare ogni volta perché oggi la situazione è migliorata, perché c'è stata un'organizzazione nuova e di questo voglio ringraziare il dottor Renato Lisio, la dottoressa Borgia e la protezione civile per il grandissimo lavoro che stanno facendo. Il mio invito è sempre quello alla vaccinazione, assolutamente, perché posso vedere che comunque anche i vaccinati contagiati sono in buone condizioni di salute, mentre ci sono non vaccinati, alcuni anche ricoverati, non sono molti, però insomma sicuramente il vaccino ci protegge perché riduce fortemente i sintomi. Quindi il mio invito è questo, è quello di prenotarsi assolutamente sul portale delle poste perché venire qui ad attendere, magari si corre il rischio di attendere ore senza poi poter essere vaccinati. E come sta avvenendo in molte altre città abruzzesi e italiane, si registrano file anche nelle farmacie per fare i tamponi. ASL ci ha invitato a organizzare uno screening di massa e io stavo valutando di organizzarlo per l'8 gennaio proprio per fare in modo che si rientri a scuola in sicurezza. Quindi stiamo valutando di organizzare questo screening di massa per la giornata dell'8, disporremo quindi la chiusura delle scuole per il 7 e l'8 gennaio perché qui è prevista la riapertura il 7. Sarà rivolto a tutta la cittadinanza ma invito ovviamente soprattutto la popolazione scolastica a sottoporsi allo screening per tornare a scuola in sicurezza. Quale altro invito vuole rivolgere a chi si appresta a salutare l'anno che va via e il nuovo che arriva? È un invito che non vorrei fare perché io sono la prima a avere il desiderio di stare con amici e con parenti però il mio invito è quello di stare con poche persone, con i familiari stretti e comunque rispettare sempre le norme sul distanziamento, indossare le mascherine quindi non esageriamo con i festeggiamenti lo potremo fare più in là. È un invito, ripeto, che non vorrei fare ma che mi tocca fare.